Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video da Lost Draven, come è sempre Ole e sempre Dismal, con il profilo ooooh, salutato. Ciao ragazzi. E guardatevi, ooooh, ogni mia kill. Capito? Poi va convinto, no, da ogni mia kill, perchè lui è sicuro di farle, capito? E' OP, è OP. Ci manca Mira, se lo sei usa bene. Chesso, però non abbiamo Chesso. Se prendi Chesso l'Ore, fai prendere Mira a Draven. Va, va, tra, lascia gli Eger, no, no, vuoi usare Eger. E mi si è ripreso anche Doc, molto sinceramente. Però vabbè, bravo Dismal, hai già capito tutto, bravo, bravo. Eh, io ti volevo far mettere il Chesso, l'ho capito, proprio per questa finestra qua. Attenti, massimo impegno, questi ci apporti. Oh, chi che ha fatto? Ragazzi, son chiuso. Corner. Non ce li hai? Ah, lì. Per l'ho fatto esplodere. Dove? Scali bianche uno, scali bianche uno. Sledge. Tirare la granata, tirare la granata. Sono entrati in botola. Preso, preso, presone. Ok, ce n'è uno sotto, mi sa. Sì, Gari. Vado dietro, dai. Pianoforte. Ormai. Nada. Ci rinuncia. Ok. Grande. Buona così. Abbiamo fatto una bella difesa, però. Abbiamo sofferto leggermente, ma bella difesa. Buona così. Ottimo. Sì, ci avevano chiuso a un certo punto, però ce la siamo cavata. Vabbè, vado di capitale. Cerchiamo di prendere Sigari. Vediamo un po' come... Io entro sopra con voi. Esatto. Vediamo che ci hanno fatto qualcosa. Tanto stanno sopra anche loro, ragazzi. È poco da guardare. Sì, sì. Ok, sì. Confermato, sono sopra. No, è là. Mi hanno fatto il drone, eh. Mi hanno spottato. Puzzano questi, siete attenti. Non sono tipi che lasciano gioco. Sì, penso che abbiano il mira comunque, perché hanno rinforzato una parete di launch. Ponga gli faccio il Bandit. Scala rossa com'è? Drono, eh? Sigari... Non ci credo, non ci credo. No, dov'era, no. Voglio sapere dov'era. Cioè, è da dentro. Va a te. Non ci credo. Valkyrie in Sigari, è un Black Eye. Che sfida, però. Vi vede, raga. Mi ha fatto in Black Eye e si è fatto il collo da solo e mi ha tirato il C4. Anche se era lontano. Eccone uno. Ti ha visto, Ole? Ti ha visto? Occhio, eh. Occhio, non puoi pusharla così. Entrano da sotto, è l'unico. Sì, sarò. Ok. L'hai presa, l'hai presa. Ok, entro allora. Sì, sì. Stavo andando a pushare su di lui. Sigari è libera. Potete torpare, raga. Libera. Sigari è libera. Vai. C'è il mira. Doppio mira. C'è il mira... Eh, doppio mira. Dovai prenderlo il Twitch. Sta spaccando con l'esotermica, Ole. Occhio. Bravo, Thermite. Bravissimo. Io non sfiderei, sincero. C'è anche il Twitch che sta tirando l'incrocio, ma... Ma il Twitch è stupido, deve andare alla finestra. Eh, Lucernario anche potrebbe andare. Il problema è che è troppo in ritardo ora per farlo. Eh, vedo cosa posso fare, però la vedo dura. C'è, non ci credo. Se l'avevi lì, non gli sono entrati i colpi. Dai, grande Thermite. Eh, mi ha fatto... Oh, oh, no! Nooo! Ce l'avevo, maledizione. Buona. Uso l'eson, facciamo quello che facciamo in esle. Quello smocchio, raga. Interessante. Indeciso. Caveira. Sempre più random. Va bene. Il primo operatore che gli è venuto in mente. A caso. Però Jager e Bandit, ma sì, dai, Caveira. Mi chiedo ancora come sia possibile che alcune persone scelgano così i operatori. Ma va bene. Andiamo se riesco a tenere un po' in posizione qua. Lo trovo. Lo vedo grigia. Davvero, molto grigia. Ragazzi, ragazzi, non avete barricato niente qua, però. Niente filo spinato. Non... La mia finestra. Occhio. BB. Scale rosse. Finestra a scale rosse, BB. Preso, BB. Buono. È una diagonale veramente incredibile. No, no, no. Sono entrati sotto. Ah, però. Va bene. Ok. Tra la torno sotto, va. Cosa? Bene. Complimenti. No, non mi, non mi filo. Sì, lo so. Sono dietro di te. Ecco perché non mi filo. Perché abbiamo fatto il buco. Ace mancato. Maledizione. Ace mancato. Però va bene. Ok. Ecco dove mancava il muro. Qua. Quadrupla col Termite. Sì, era una tripla. Ho difeso da solo Treni. Carriato. È carriato lui. Però va bene. Ok. Maledetti. Haters. Fateli parlare. Fateli parlare. Ragazzi, prendo capital. Non lo so. Io non... Anzi, no. Ce l'abbiamo. Fuse. Fuse è cattivissimo. Ah, ce l'ha a posto. Ma perché non vi do gli operatori oggi? Sono a difendere i sigari, eh. Sembra... Ah, non conosco in quattro. Ma non è... Dai, approfittiamone adesso. Divisa in quattro è tosta, qua, eh. Sì. Eh, black eye, black eye, black eye. Ho voluto fare il black eye al volo. L'ho mancato di poco. Buona. Da dove mi ha ucciso questo cane? No, vabbè. Stava... Nel corridoio sotto. Non c'ha senso. Dovrebbero essere interni. Sopra non dovrebbe esserci nessuno, però... Io ho finito i droni. Ma c'è morte in bana, però. Vabbè. C'è qualcuno su scala rossa. Cioè, guarda. Guarda. Buona, guarda. Buona. Si, l'unica è treni perchè vi coprono da sopra. Vi copre da sopra. Tu, tu tieni sopra. Tieni sopra tu, Ole. Ah, no. C'è tu, ci sentiti. Ci sentiti. Ci sentiti. Ok, c'è Davide. Edglic, lungo! Dietro, dietro! Vai, venti un'altra bomba! C'è la Queen Edglic a destra pure, Raffa, devi busciartelo. E là dietro lo camioncino. Eh, non riesco, è troppo generico Edglic dietro, poteva essere dietro la bomba o dietro la roba. Non fa. Cioè, c'è morto all'inizio Ubana. Non doveva morire, non doveva morire. Bella adesso questa difesa. Maledizione! E mo' come vai a difendere in piano terra? No, me la gioco con mira. Poi me la gioco col vetro sull'ingresso principale. Tanto son sicuro che attaccheranno da dietro o da cucina, quantomeno. Raga, vi sto mettendo l'altro vetro di mira qua dietro, eh. Va a questo che? Va a questo cosa sta facendo di spawn kill? Vai ci pigliano da dietro anche. Ma proprio non sono spawnati da lì dietro, eh. No, ci spawnano avanti, vanno al fast blow. Montagne, 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 montagne qua davanti a me. Oh! GG. Non abbiamo visto il drone. Ok, preso i bana. Ottimo. C4 solo per non farla rianimare. BB. Sono one shotissimo. Inga qua fuori. Buona, buona, ragazzi, buona. Veramente, arati completamente. Non hanno capito nulla. Questa divisa è tanto, eh. Dai, dai, dai. Oh, un 70. Adesso bisogna attaccare. Montagne, ying. Le prendo Twitch. Io vado di ying. Faccio il fast plant. Serve il capitau. Olè, prendi capitau. Meglio di... Non serve montagne per farlo. Vabbè, no. Fumogeno lo possiamo fare comunque, in realtà. Sì, col fumogeno. Olè, capitau. Olè, capitau. Serve per forza capitau. Raga, a Claymore ci serve finestra di cucina e quella dove c'è la fermata, tipo il pullman lì. Che cavolo, eh. No, capito. No, serve solo la finestra di sopra, serve pure. Che escono sempre lì. Sì, sì. Hanno eco anche loro, comunque, raga, eh. BlackEye da me? Dove l'ha tirato, BlackEye? Ah, eccolo. Preso. Buona. Claymore run out. In posizione. Oh, come l'ho fatto! Come l'ho fatto! Bella, raga. C'è un po' dietro il mira? C'è mira qua, eh. Dai, apri il mira. C'è il vetro di mira, c'è il vetro di mira. Eh, ce l'ho mai qua, raga. Se non me l'ho fatto fuori. Aperto, aperto. Aperto i tuoi mira. Ieghi è su spot. Scappa, scappa, scappa. È andato. Raga, c'è un magpie, non posso tirare una fumogena. Eh no, no, non farlo. È qua il magpie. Maledizione. Qua? No, che sfiga, l'avevo pusciato benissimo. Bravo, le. C'è anche Jäger in cucina. C'è mira, c'è mira, c'è mira. Ah no, c'è ancora mira. C'è mira nel corner ancora. Presa, presa. Buono. C'è anche Jäger da quelle parti, attento. Bravo, le tini l'angolo così, perfetto. L'alto. No, tini l'angolo, non andare col Drun. Tini l'angolo. La pusha, ti pusha, ti pusha, ti pusha. Il mira è aperto. Preso uno. Jäger è morto. Rimani al mira, rimani al mira. Prego posizione. Vai, vai, tieni posizione. Buona, ragazzi. Mamma mia, che attacco che abbiamo fatto e che kick ho fatto con Ing. Madonna santa. Tanta roba, tanto roba. Ovviamente. Carriato 9-2. Carriato 9-2, quasi ace con smoke, tripla in pic assurdi. Io direi che va bene, ci siamo soddisfatti. Va bene, ci sta, ci sta. Vabbè, 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 vabbè. Stile, stile. Quanti punti vi da adesso? Vi da un botto di punto. 65 punti. Quindi, ragazzi, mi raccomando. Lei che supporta questo video e questa serie. Qui sotto, come sempre, fatemi sapere la vostra e commentate. Vi ricordo che ovviamente in descrizione trovate tutti i link utili per i vari social. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.